Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42. L'ultima volta che l'ospite odierno è passato di qua io non avevo ancora corso nessuna ultra, lo spezia era in Serie A, il Napoli non aveva ancora vinto lo scudetto ma perlomeno se la batteva per la zona Champions, ma soprattutto non erano ancora usciti un paio di libri sulla corsa a New York che in realtà sarebbero teoricamente l'argomento di oggi e quindi senza perdere ulteriore tempo diamo il bentornato a questo punto su da 0 a 42 a Lorenzo Maria Dell'Uva. Ciao, ciao Lorenzo, ciao a tutti. Ciao e grazie di essere qui. Grazie a te per la nuova ospitalità e mi dispiace un po' per lo spezia ma lo sai che non andiamo d'accordissimo, però quest'anno non posso neanche più di tanto fare dichiarazioni strane sul calcio che non seguo, quindi non saprei di che parli. Cambiamo argomento che è meglio, parliamo di corsa, tu procediamo, anche perché noi c'eravamo sentiti che veramente lo spezia era in Serie A ma aveva anche battuto il Napoli senza neanche fare un tiro in porta, mi ricordo. Sì, mi ricordo, tipo un autogol, un collonso di quelli storici. Quest'anno siamo di nuovo in quella fase lì, che sa che non sia passare l'altro podcast che non porti bene e quindi magari l'anno prossimo e quindi a quel punto mi rendo disponibile a tornare volontariamente ogni due anni, anche a pagare per intervenire, poi parlo con De Laurentiis e vedo se riesco a ritirare fuori. Tiremo fuori una quota per finanziare. Quota scaramanzia, esattamente. Bene, in effetti voi napoletani non siete scaramantici del resto. Ma io non tanto, però se succedesse di nuovo poi a un certo punto uno i punti lui deve collegare. Vai, torniamo a noi. Allora, quasi tutti ti conosceranno già proprio perché sei già passato e soprattutto perché insomma un po' di cosettine qua e là sulla corsa le hai fatte, ma nel dubbio te una micro presentazione rifalla di chi è Lorenzo Maria Dell'Uva al di là della corsa, al di là dei libri, di questo poi se ne parla abbondantemente. Allora, volentieri, io sono un start-up, nel senso che moltissimi anni fa, quando la parola start-up ancora non andava di moda, con un amico socio, abbiamo fatto una società, sono circa 30 anni, una roba del genere, quindi chiamarla start-up non si può più, ma lo è stata, che è un'agenzia di sviluppo di siti web, quindi io di lavoro, mi occupo di soluzioni digitali. Questa cosa mi dà il privilegio, vantaggio, fortuna, scegli tu la parola, di poter lavorare costantemente a distanza o in viaggio e questa possibilità io la sfrutto, devo dire, più possibile perché per fortuna abbiamo dei clienti degli Stati Uniti e quindi per fortuna spesso sono lì e per fortuna quindi riesco a correre molto a New York che è un po' la mia città, la mia terza città adottiva perché io sono napoletano, quando sono in Italia vivo a Bologna, quando sono all'estero vivo in Stati Uniti a New York, quindi ho un po' tre anime che cercano di convivere e spesso entrano in conflitto, quindi tutto quello che ho fatto deriva un po' da questa vita un po' sparpagliata nei luoghi insomma. Però è sempre, secondo me, una cosa che accresce, vedere più culture, più posti, commistione di cose, secondo me è sempre favorevole. Sì, sono d'accordissimo, infatti come ti raccontavo backstage, lavoro costantemente ad allargare gli orizzonti di viaggio diciamo che per me è molto interessante il fatto che io ogni volta che sono o a Napoli o a New York per esempio appunto in stella corsa, così stiamo un po' in tema, ho le mie abitudini, i miei compagni di corsa i miei luoghi dove vado a correre e quindi è come se avessi tre vite un po' parallele e con tantissime abitudini che ritrovo e quasi dimentico, compreso, cosa non banale, un kit di corsa in ciascuna di queste città in modo che non viaggio con tutto il necessario in giro. Insomma, il minimo, se arrivo a New York e perdo il bagaglio, il giorno vado a correre sicuro, non c'è problema. Vero, è vero, questa è una cosa che ho iniziato a fare anch'io, ho investito un sacco di soldi dal Decathlon qualche settimana fa e ho comprato tre maglie termiche, tre pantaloni lunghi, tre pantaloni corti, tre tagli di calzini così per una settimana io... Una cosa che viaggia con me è il Garmin, diciamo, però in realtà avendo io un Apple Watch spesso e volentieri mi sono trovato, se vado a Napoli per esempio due giorni non porto il Garmin, corro con l'Apple Watch e quindi evito ancora di più il trasferimento di roba da running in giro per il mondo. Ok, tornando a noi, comunque in generale rispetto alla tua scorsa intervista che eventualmente invito anche a recuperare, stavolta cercheremo di essere più brevi perché il cuore in verità sono questi due libri che accennavo. Intanto partirei dalla Corsa Infinita 2.0, diciamo così, anche se poi questo libro è strettamente, direi, collegato all'altro che è Iran e New York per motivi che adesso ci spiegherai maggiormente. Io di questa seconda versione ho letto, ammetto principalmente le parti nuove e ho risfogliato quelle che conoscevo già. Anche perché, devo essere sincero, non ho a momento perlomeno intenzione di fare la maratona di New York e questa è sostanzialmente una mega super guida, super esaustiva veramente su di quello. Ma intanto spiegaci un po' meglio di cosa si tratti e perché questa esigenza di scrivere una versione appunto aggiornata. Allora, l'esigenza della nuova versione è nata dal tempo che è passato, nel senso che erano passati quattro anni da quando avevo scritto la prima versione. Dal fatto che nel frattempo c'è stato il Covid e quindi il fatto che New York è una città che cambia più velocemente che io lo possa immaginare. Io spesso manco dalla città, poche settimane, pochi mesi e quando sono cambiate una serie di robe. E quindi di fatto dopo quattro anni si vedevano un po' i segni del tempo, delle cose non le ritrovavo, dei posti miei preferiti non c'erano più, altri nuovi posti preferiti erano nati e io non ne parlavo, le procedure di gara erano cambiate e quindi la necessità era ovvia. Ma devo dire che in un capolavoro di ottimismo, quando avevo fatto la prima versione in copertina, avevo scritto edizione 2019, che da un lato era ottimista, dall'altro era una specie di mini citazione di Guerra Stellari perché anche Episodio 4 era nato esattamente con la stessa speranza per Lucas che un giorno ci sarebbe stato l'Episodio 5, nel suo caso ho avuto più che ragione, quindi va bene così. Quindi il libro è una guida, non è un libro, non è un romanzo, quindi va da sé che già adesso ci sto rilavorando perché secondo me c'è bisogno di starci più dietro possibile, anche perché questi qua, gli New York Roadrunners hanno deciso di aggiornare le procedure più spesso di quanto piace a me. E quindi io cerco di seguirli su questa cosa e quindi la guida... L'altra esigenza, da cui poi passiamo a parlare anche dell'altro libro, è che la prima versione voleva essere la guida totale per chi correva la matriera di New York e per chi correva a New York. Il risultato era che il libro originario era un po' un mattone, lo dico da papà affettuoso, però era un mattone, nel senso che erano moltissime pagine, ma soprattutto molte di queste pagine non erano utili a chi andava in città per correre la matriera di New York, quindi quando ho messo mano a una seconda versione ho fatto quello che si impara a fare con l'età, ovvero saper tagliare quello che ti rendi conto che è un errore o comunque puoi migliorare. Quindi sostanzialmente la nuova versione della Corsa Infinita perde circa 200 pagine che sono dove correre a New York, in realtà ne trattiene 5, perché trattiene quelli a Central Park, che poi sono quelli sinceramente utili per chi va in città nella settimana prima della maratona e tutti gli altri invece di perderli, in realtà hanno avuto la dignità di diventare un libro a sé stante. Quindi, in sintesi, chi dovesse avere la Corsa Infinita prima versione può tranquillamente ignorare Air Run New York, che è stato aggiornato nei contenuti, ma di fatto i 36 itinerari che offre il nuovo libro sono gli stessi che c'erano nella versione originale. Chi invece è partito, ha scoperto che la Corsa Infinita ha già la versione nuova, quelli di itinerari non ce li ha più e se per caso decide di andare a correre a New York dopo la maratona o prima, è un compagno di viaggio utile per trovare dove correre. L'idea di Air Run New York è appunto raggruppare questi 36 itinerari in tutti i boros, quindi ci sono percorsi di corsa in qualsiasi dei 5 boros dove uno si dovesse trovare ad alloggiare e poi ci sono anche dei percorsi, per chi vuole fare più chilometri, anche multiboros. Quindi, nella sostanza, il percorso più breve di tutti i libri sono 2,5 km, è il giro del Reservoir all'interno di Central Park, il percorso più lungo è uno dei miei giri preferiti a New York, sono 36-37 km, nel mio caso partire a Brooklyn va a Manhattan, torna a Brooklyn dal ponte di Brooklyn, nel caso di uno che parte a Manhattan fa il giro partendo in un posto diverso. Io sono l'informatico, come ti dicevo all'inizio, quindi questo libro ha il file GPX, il percorso Strava, quindi ho cercato di mettermi nei miei panni e quindi non penso che uno vada a correre col libro in mano, ma probabilmente si precarica sul Garmin itinerario e si fa anche guidare senza stare impazzito. Siccome c'è sempre per me una chiave di turistica barra amore per New York, New York oltre a essere i miei percorsi di run preferiti in città, cerca di correre in posti belli, che a New York è facile, è più difficile selezionarmi solo 36 e avere dei percorsi che abbiano una certa logica, ma nel libro sono spiegate le cose che vedi, quindi come una delle critiche che mi sono sentito fare, non a me perché non è mia, ma della Manhattan a New York è stata, ah però un sacco di robe famose non si vedono, è vero perché la Manhattan a New York entra sostanzialmente a Manhattan molto in alto, è sostanzialmente l'unica cosa che vedi a Central Park, della Manhattan che chiunque si immagini a New York immagina, invece la New York ti fa fare un po' di giri in giro, quindi lo trovo un libro utile e sinceramente in questa nuova forma a sé stante lo trovo più utile di come era prima che invece era da pagina 500 a pagina 650 ed era, cioè per sfinimento nessuno ci arrivava. Capisco, capisco. Allora rimaniamo un attimo su Iran a New York, c'è un percorso di questi 36 che senti più tu o che comunque in generale ti sentiresti un po' di consigliare di più rispetto agli altri. Allora, per esempio questi sono tutti i miei percorsi, quindi un po' difficile, però uno che a me piace molto è che tra l'altro si è arricchito da poco di un piccolo pezzettino che hanno aperto da poco, dopo che è uscito da New York, vabbè parto praticamente da Brooklyn, ma è un loop, quindi io ho cercato di fare sempre loop, è un percorso di circa 18 chilometri, che parte dalla zona più a nord di Brooklyn che si chiama Greenpoint, che dove abito io quando sono in città, attraversa il Queens, poi fa il famoso Queensboro Bridge e quindi fa un pezzo di maratona, sostanzialmente da Brooklyn al Queensborough fa il pezzo della maratona, fa il ponte di Queensborough e poi corre lungo List River sulla sponda ovest fino al ponte di Williamsburg dove fa un giro in giro e ritorna verso Brooklyn. Quindi sostanzialmente si fanno tre ponti, di cui due sono nella maratona, il Pulaski e il Queensborough e il Williamsburg che non si fa, ma è probabilmente il ponte più bello di tutta la città personalmente. Quindi questo qui che è un po' il mio giro preferito, adesso sono stato infortunato per un sacco di tempo, quindi un po' di tempo che non lo faccio perché quando ti fai male di colpo scopri che fare 18 chilometri non sono pochi, mentre che sai benissimo quando sei allenato esci e fai ah ho fatto 18, ho riduto a fare di più ma non avevo tempo, io sono la percezione di eh 18, ho fatto qualche passo indietro rispetto a quando ci siamo sentiti ma è stato fermo praticamente quasi dall'ora e quindi è stato un po' nella fase di ripresa. Però quello è un giro molto bello che consiglio e soprattutto siccome tocca tre dei cinque Boros, sia che uno dorma a Quincy, che uno che dorma a Manhattan, sia che uno dorma a Brooklyn, riesce a intercettarli insomma. Poi magari dopo ti mando l'immagine del percorso così come fanno quei bravi i poemi. Bravo. La nota nel podcast e così uno lo volete. Tu sì che sei una persona seria, mica come me cazzo, bravo, bravo. No, 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 non lo faccio assolutamente mai, però se lo vuoi fare io. Ragazzi se non lo fa e Lorenzo non l'ha dovuto fare, io mi sono proposto. Un tanto un Lorenzo, diamo la colpa a un Lorenzo dei due, non si sa qua. Un colpa di Lorenzo, in qualunque caso è colpa di me. Sempre rimanendo qui come discorsi, quindi diciamo che questo libro è rivolto sostanzialmente a una persona che va in vacanza a New York e vuole scoprire New York al di fuori della maratona. Esatto, per chi vuole andare a New York, correre o camminare o andare in bici. Quindi strizza l'occhio alla maratona perché comunque è incluso dalla Corsa Infinita lo stesso capitolo che racconta il percorso della maratona, perché lo scopo mio finale è invogliare comunque le persone a fare la maratona di New York. Però sì, se vai in vacanza a Pasqua, per il ponte il 25 aprile, per Natale, con la famiglia a luglio e vuoi correre e non sai ma adesso dove vado, ovviamente tutti mi diranno ma vado a correre a Central Park. Vero, bello, bellissimo, sono indicati anche i percorsi di Central Park, ma esistono zone veramente stupende di New York dove puoi correre tra l'altro con molta, se vuoi correre da solo è meglio, se vuoi correre in compagnia Central Park è il posto più bello del mondo perché ogni weekend ci corrono migliaia di persone, sembra che ci sia una gara ma in realtà sono solo persone che si allenano. Fantastico però, in primo o poi ci proverò anch'io quando andrò lì a New York, l'ebbrezza comunque al di là della maratona secondo me è andare lì una volta nella vita da runner va fatto secondo me. No, no, assolutamente, in realtà ti senti veramente parte di una comunità molto ampia lì, diciamo che non capita mai che corri solo, incontri sempre qualcun altro che sta correndo sempre, qualunque sia, ora, giorno della notte, in qualsiasi luogo. Immagino. Hai già ricevuto dei feedback di queste modifiche, cioè sia della versione 2.0 che poi anche di questo nuovo libro, da qualcuno che ha letto, che l'ha utilizzato magari. Sì, io sono molto contento perché soprattutto la Corsifita, che era in New York uscito da poco, insomma è un librino un po' più verticale, qualcuno già mi ha scritto per dire che l'ha usato, io sono contento perché io alla fine lo scopo del gioco è quello di essere utile alle persone che, insomma, per me sono libri utili, non è un romanzo che quindi ti porta in un altro mondo, sono libri che ti vogliono dare delle informazioni. La Corsifita ho avuto tantissimi feedback perché devo dire che viene molto usato e mi fa molto piacere, ovviamente, e la seconda versione già tirava dentro una serie di feedback della prima, perché dalle parti mie si dice che nessuno nasce imparato e quindi per me è importante capire quello che le persone serve e su questo molti hanno gradito la riduzione delle pagine, ma molti anni hanno gradito anche una riedizione di tutta una parte che spiega come vivere, cioè quali sono le procedure dei giorni prima, durante la gara, eccetera, che sono state rese un po' più organiche e un po' più complete. L'altra parte che riceve un sacco di feedback è un capitolo, la cui idea io ho rubato da un altro libro che ho letto molti anni fa, che è il capitolo che si chiama Visualizzazione, che è a tutti gli effetti una visualizzazione di gara, con una tecnica che io ho studiato per poi poterla riportare nel libro. Quella originale era in un bellissimo libro che si chiama Advanced Maratoning di Bob Lover e tra l'altro per caso era già fatta sulla Maratona in New York. Io mi piaceva molto, mi sembrava che funzionasse molto, però l'ho riscritta completamente sulla base di quello che ho visto io. Per chi volesse correre la Maratona in maniera un po' più pompata, oppure per chi semplicemente sta preparando la prima Maratona ed è spaventato, moltissimi mi hanno dato feedback che funziona, c'è chi mi ha detto che si è emozionato, c'è chi mi ha detto che l'aveva accorso e si è ritrovato in quei momenti che sono raccontati, quindi quel singolo capitolo aggiunto, abbiamo aggiunto vari capitoli, ma questo qui specifico ha avuto molto, sono stato molto contento perché ha fatto esattamente quello che io volevo che facesse, però portasse una descrizione un po' emozionale affinché chi tenta la tecnica di visualizzazione abbia un compare. Ok, fantastico. Allora guarda, mi collego a questo tuo discorso, neanche a farla apposta perché ovviamente non era preparato, con una delle domande che hanno fatti i patrons, come sempre sono quelli scappati di casa che mi danno dei soldi per fare queste cose, e sapendo che c'eri tu come ospite hanno scritto alcune domande. Luca, in particolare a sto punto, il prossimo anno vorrebbe fare la Maratona di New York assieme a sua moglie, che però per lei sarebbe l'esordio, diciamo, sulla distanza regina e a qualche timore. Lui ti chiede, la consiglieresti la Maratona di New York come prima maratona oppure il percorso non facilissimo, l'impatto di un evento così grosso, possono in qualche modo essere controproducenti per un esordiente su questa distanza? Allora, prevenso che la risposta è molto personale, cioè dipende da ciascuno di noi, secondo me. Secondo me non c'è Maratona migliore al mondo possibile prima di New York, meglio non esiste. Questo lo dico perché l'assunto è stata la mia prima, quindi non parlo per sentito dire, diciamo. Poi dopo, New York e molte altre ne sono seguite, però la risposta è la mia prima. Secondo me la Maratona, soprattutto la prima, quando entri in quel territorio esplorato che c'è da 32 in poi, no? Perché in realtà, secondo me, se posso fare una digressione un attimo, il mito del muro che c'è, che ti ammazza, ognuno di noi può raccontarne per ore, in realtà, secondo me più ne fai e meno te ne accorgi. Cioè secondo me la sorpresa del muro, il 50 argento, è la sorpresa. Lo sai, lo leggi, però in realtà ti senti veramente un po' colpito dalla stanchezza che ti prende, poi vengono, le regisci in un muro. E una Maratona in cui in quel momento ha il sostegno di migliaia di persone, dove migliaia sono quelli che stanno a bordo strada e quelli che corrono dietro avanti di te, secondo me è non banale, secondo me esistono maratone in Italia, una organizzata anche da un mio caro amico, quindi non la citerò, ma il 32esimo chilometro capita su un ponte lunghissimo autostradale e io lì sarei, se fosse stata la mia prima Maratona probabilmente sarei morto, applicando esattamente questa teoria, nel senso che mi sarei trovato da solo, mi sarei guardato in giro e avrei pensato ma io che ci faccio qua? Non posso più. E mancano ancora circa 10 chilometri. Quindi sì, secondo me, poi, se lui l'ha già corsa, potrà tranquillamente correre con lei, perché pur se si viene sorteggiati con pettorali diversi in base all'esperienza, applicando la regola che si può sempre retrocedere, lui potrà sempre partire con lei e quindi diciamo pubblico più New York, più marito che conforta, uguale finish line. Ok, sì, sì, ma infatti poi appunto può farsi questa visualizzazione pre-gara così toglie un po' di ansia. Assolutamente, assolutamente. O gli viene di più, non lo so, io l'idea era levarla, era dare uno strumento in più che magari, mi dicono, ho chiesto anche degli aspetti, cioè che funziona moltissimo la tecnica visualizzazione e magari soprattutto in quelli che tentano una prestazione precisa, no? Ma guarda, io faccio anche io una digressione a sto punto relativamente a questo. Qualche tempo fa, preparando tanto Cortina Trail, sono tuttora allenato e uno dei webinar c'era stato, uno che poi è passato anche di qua come ospite, Gaetano Buson, che è uno psicologo sportivo. E tra i vari metodi c'è proprio fatto testare in questo webinar, in questa live che abbiamo fatto, 5-10 minuti di visualizzazione. E a un certo punto io mi sono reso conto che chiudendo gli occhi ero qua praticamente a questo computer, a una certa misura istintiva di muovere le gambe, proprio perché mi veniva da correre. Quindi era stato proprio immersivo, veramente in modo incredibile. Mi avevo molto colpito quella cosa lì, devo essere sincero. Sì, sì, io, ti ripeto, io leggevo quella di Glover quando facevo le mie prime maratone e prima la immaginavo e poi la rivivevo man mano che le correvo e quindi ho pensato adesso è il momento di... non l'ho tradotta, l'ho riscritta completamente e così. Io sono poi ovviamente in colpevole ritardo, però tu a margine della corsa Infinita 2.0 hai fatto anche un tour promozionale, diciamo, in giro per l'Italia. Com'è stato andare in tour come le rockstar? Sono stato molto contento. Uno, perché ci sono tante persone con cui uno si iscrive sui social e che ha... alla fine fai un po' fatica a dargli un volto, una voce, un suono. Ed è stata un'occasione di incontrare. È stato completamente, come tutto quello che mi riguarda, completamente auto-organizzato ed è... si è basato su tantissimo aiuto di amici vari che ho l'opportuna di avere sparsi in tante città italiane. È stata un'occasione per girare, mi sono divertito moltissimo. È stato veramente interessante raccogliere quel feedback di cui parlavi tu dal vivo per farsi un'idea di che cosa era giusto e cosa era sbagliato e sono molto contento di... adesso per tanti progetti quest'anno non riuscirò ad andare in giro, però spero di rifarlo presto. È stato molto divertente. Immagino, immagino. Quindi insomma, dai, è andata bene. Quante tappe hai fatto alla fine? Eh, saranno state 7-8 alla fine. Si sparsi un po' dappertutto. Sono fortunato. Io ho tanti amici in tante città del mondo, quindi è stato molto naturale, molto semplice e molto interessante anche vedere le differenze, le dinamiche diverse, perché a volte ho presentato il libro in un negozio di articoli sportivi superiea, in un altro caso all'interno di una sede, di una associazione di running, un'altra volta in una libreria, insomma, anche gli ambienti, anche le persone che partecipavano a diverse. Non tutti erano appassionati di running, alcuni erano appassionati di New York, altri erano passanti che magari iscritti in newsletter si trovavano a frequentare gli eventi che quella specifica location organizzava e è stato interessante. Vorrei che farò di più, ma il tempo è così. L'organizzazione, insomma, te la sei fatta a te e quindi te contattavi le persone e gestivi un po' la faccenda. Il metodo è stato semplice. Io ho eletto per ciascuna città un responsabile, che era un amico, dicendogli, ciao Lorenzo, ma tu a Spezia, se io volessi presentare il libro, ti viene in mente un posto che sarebbe interessato a ospitarlo? Tu dici, aspetta, ci penso. Ah, guarda, sì, forse sì. E da allora gestivo, sì. Ficata, bravo, così si demanda, top proprio. No, nel senso che se vai la call call in un posto che lo conosci, ciascuno di noi sul proprio territorio. A Bologna, per esempio, sono stato fortunato perché mi ero scritto per Via della Corsa Infinita e per la Verazione Central Park con una persona, qui c'eravamo scavati i messaggi, poi ho scoperto che era l'assessore allo sport del comune di Bologna. l'ho scoperto dopo. Per me era Roberta e quindi quando poi le ho detto, oh Roberta ti faccio vedere il libro nuovo? Lei mi ha detto, no, vabbè, ma allora facciamo una presentazione col comune di Bologna, stai qua. E quindi è nato proprio così, ti mando il libro, no, facciamo la presentazione. Sì, ma infatti fare networking in generale nella vita, al di là del lavoro, allora è così, è sempre, oltre che piacevole, poi è anche utile. Poi lei è una runner, era appena forse a New York, quindi è forse un pezzo preciso. Molto bene. Tornano alcune domande dei patrons, c'è una di Patti che ti chiede, secondo te perché la New York City Marathon è diventata la maratona più famosa del pianeta, anche se poi non è facile, cioè c'è il dislivello, c'è la svegliare la quale della notte, c'è un'attesa lunga in griglia, eppure anche perché ci sono pure altre maratone che effettivamente dice lei, ma è vero, ci sono un tifo da stadio, però perché New York è così ambita? Allora, secondo me sono due motivi. Primo, che il percorso è molto bello, ti parlo, ovviamente faccio finta di non pensare che ci sono le salite, i ponti e le discese, è bello dal punto di vista visivo ed è soprattutto molto variegato. Quindi tu, vabbè, io adesso quest'anno nel 2023 ho corsa per la mia decima volta, quindi un po', diciamo, che conosco. Però comunque non ti annoi, io ho fatto altre maratone molto celebrate, molto popolari, poche volte, quindi non ho la conoscenza della città, però a un certo punto mi sembrava di passare nei stessi posti o in posti molto simili, e per questo generiamo una tempesta di cacca, dicendo per esempio Berlino, dove io ho fatto il mio tempo migliore, quindi la adoro, le voglio un gran bene, però a un certo punto mentre giravo pensavo, ma ci sono già passato qua, ma boh, non lo so. Stesso per Valencia, per esempio, dico queste due perché sono quelle che ho fatto e soprattutto sono quelle che molti italiani fanno e che amano, quindi niente di personale contro nessuna di queste. Però, quindi il percorso è molto variegato, la rende molto bella, interessante e sinceramente ti aiuta. La seconda cosa è che secondo me è molto raro che qualcuno ti parli male della malattia di New York, quindi se tu ogni anno butti fuori 50.000 finisher e di questi 50.000 49.500, quasi 50.000 vanno a casa e agli amici, ai parenti, ai cugini, ai nipoti dicono che figata, che figata, che figata, inevitabilmente questa cosa assume uno status un po' diverso perché poi ci sono quelli che ne parlano male, quelli che magari preferiscono altre gare, però quelle persone lì che esistono, che io magari non condivido tutto, però capisco perfettamente la critica in molti casi, sono magari un po' runner un po' più hardcore, che cercano una roba diversa rispetto al sentimento popolare, in senso nobile, del passaparola. Quindi se tutti parlano, del resto pure prima backstage, tu hai detto, poi quella gara che mi avevo parlato, me ne hai parlato bene e poi l'ho fatta, esattamente, moltifica quello per 50.000 persone in tutti i paesi del mondo, da 51 anni lo status inevitabilmente cresce. Poi, chiaramente, la città fa il suo, perché potrebbe essere tutto uguale, ma a Detroit non sarebbe la stessa cosa, adesso qua nessuno si offenderà perché Detroit non la difende mai nessuno. La Motor City, ma guarda, allora a sto punto neanche a farla apposta casca più o meno collegata a questo, un'altra domanda di un patro, cioè di Gabriele, che ti fa tre domande, ma il concetto è lo stesso. Come viene percepita dai potisti americani in lavorazione di New York rispetto alle altre big, tipo Boston, e perché per la maggior parte poi degli europei, aggiungo io, questa è proprio la maratona, ma insomma, come la percepiscono loro, gli americani? Allora, gli americani hanno una percezione leggermente diversa rispetto a noi perché per loro entrare a New York è quasi più complicato che entrare a Boston, nel senso che Boston entri solo con i tempi qualificanti. Adesso anche New York sta spostando dal 2024, soprattutto al 2025 e poi andrà in quella direzione per gli americani. Qui gli americani percepiscono New York come qualcosa di molto difficile a entrare, perché entri con la lotteria, ma sono pochissimi posti, o praticamente non entri se non hai tempi qualificanti. Boston invece che ha una fetta di qualificanti più ampia è percepita come sono dei tempi possibili, però ci posso entrare. Poi la percezione Boston-New York è la stessa che abbiamo anche noi, ovvero Boston è la più elegante, la più prestigiosa, la più antica che c'è e quindi anche a quello vale qualcosa, New York è quella un po' più cacciarona, eccetera. Però Boston è più percepita proprio da quelli, questo è comune a noi, un po' da più entri nel running, più entri nella maratona, più capisci che Boston in realtà sarebbe figo avere la giacca gialla con l'unicorno blu, lo vorremmo tutti e quindi soffri. Eh sì, è vero. E invece tu che sei spesso in America, gli americani come le percepiscono le maratone europee? Eh, questo è un po' più ampio il discorso perché gli americani, la domanda sarebbe come percepiscono gli americani d'Europa, che molti sanno solo che è a est da qualche parte, ovviamente sto generalizzando, allora diciamo che, proprio mini 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 informazione di base per chi non conosce proprio il continente, esistono due Americhe che sono nella fattispecie, le due, un'America che vive sulle due coste, questi sono gli stati, California, New York, Massachusetts, eh Massachusetts, mai, e comunque la Florida, insomma gli stati, e tutti quelli che sono all'interno. Quelli che sono all'interno non sono esattamente come quelli aperti nei confronti degli altri, e delle altre culture, degli altri paesi in generale, come possono essere chi vive sulle coste. E quindi l'effetto che si può ottenere, volendo fare un paragone, è un po' come l'Inghilterra con la Brexit, dove a Londra erano tutti i contrari e nel resto dell'Inghilterra più campestre erano tutti favorevoli e alla fine. Quindi, gli americani sono americani di città, facciamoli, chiamiamoli così, hanno una percezione dell'Europa corretta e quindi sognano di andare in Europa perché per quello loro comunque hanno meno vacanze di noi, quindi mediamente chi lavora, e quindi magari sognano di venire in Europa a fare una maratona e magari attaccarci una vacanza di dieci giorni. Gli altri non sanno neanche dove è l'Europa, cioè sono indecisi, ma gli altri non hanno probabilmente neanche il passaporto e quindi la loro percezione di, cioè è nota questa cosa, ma quando c'era la guerra in Iraq, molti americani non sapevano dove fosse l'Iraq, ma non dove, con chi confina a Nord e a Tore, cioè proprio dove fosse più o meno. Quindi da questo punto di vista ci sono due Americhe e a New York uno vede solo l'America quella più evoluta, comunque più aperta nei confronti di tutti e di tutto. Diciamo che l'immaginario collettivo di noi, in questo caso italiani, che guardiamo l'America è New York e il new yorkese, nell'immaginario quello da film. Ti riconto che è molto grande, gli stati sono molto grandi e anche noi non sappiamo niente del Nord Dakota. Io quest'anno che ho visto il Super Bowl, ho scoperto che Kansas City non è in Kansas. Io non lo sapevo. Scoperto ora anch'io, questa è una novità. Se non sbaglio è in Missouri, se non sbaglio, adesso non voglio, mi sto esponendo. Non controllerà mai nessuno, tranquillo. No, no, io lo controllerò adesso dopo e poi cambiamo, mettiamo con le AI. C'è l'intellige bravo, c'è l'AI, stavo per dirlo, io modifichiamo. Ci sono altre domande? No, c'è l'ultimo saluto, diciamo, dei Patron, se non hai una domanda, ma è di Gaetano Fresa che ti ringrazia per la postfazione al suo libro La birra è vicina e quindi ti manda un caro saluto. Gaetano Fresa, io sono stato contentissimo perché ho letto il suo libro in anteprima. È un bel libro, io lo consiglio. Ecco, nell'edizione 2, per esempio, nella bibliografia ho raggiunto anche il suo libro, perché chiunque parla di New York io cerco di dare tutte le informazioni possibili. È un racconto, in questo è speciale, come tantissimi racconti che ho raccolto parlando con le persone. C'è qualcuno che in un momento difficile si dà un obiettivo, vuole raggiungere un risultato che sembra straordinario ed è un bellissimo racconto della sua prima maratona, con tutto quello che deriva, che portano a la prima maratona, tra sorpresa e fatica. Assolutamente. Io oggi ho visto proprio su Instagram una storia tua, insomma, ci sono delle novità in vista di E' Futurre per podcast, libri o quant'altro? Allora, il libro, come ti dicevo, sto lavorando una mini nuova edizione, ma chi c'ha il suo la seconda edizione è tranquillo, nel senso che sto cambiando solamente, sto aggiornando quello che proprio è cambiato rispetto all'anno scorso, le date, gli orari, insomma, il 99% rimarrà uguale. Però la mia idea dal 2023 in poi è stata quella di rilasciare degli aggiornamenti annuali, quindi non una nuova edizione, ma dei minor updates, si chiamano, che però sono necessari per far sì che uno che lo compra non legga informazioni. Soprattutto lo dico sulle procedure di iscrizione, perché quelle cambiano ogni anno, quindi mi dispiaceva fornire. Quindi una delle novità è l'aggiornamento del libro, che però è veramente un minor update. Invece sì, i podcast, che siamo concorrenti in questo, che non so se potete parlare del podcast. Ma fai quello come fosse a casa tua, veramente. Tra l'altro c'è scritto Lorenzo qua. Esatto. Dovrei iniziare anche con Pietro, dicendo buongiorno runner. Esatto, bravo. No, allora, a margine della Corsa Infinità, qualche anno fa è nato questo podcast, è nata una prima stagione podcast che si chiamava L'Averrazione a Central Park, che voleva raccontare la maratona miglio per miglio, e quindi erano 26 episodi, anzi 27 con la intro. Ha raccolto un sacco di interesse, perché come tutto quello che faccio io è molto verticale, e quindi se ti interessa la maratona di New York, effettivamente trovi un sacco di risposte in più rispetto a un poter come il tuo, come Runner Stairs, come... Giustamente. Dove sono molto più interessanti, perché parlo del running da tutti i punti di vista, però poi magari la maratona di New York gli dedicano giustamente un episodio. Invece io seguo la filosofia opposta, io parlo solo di questa roba e cerco di darti più informazioni possibili. Con Pietro Paschino, amico caro, difficile da raggiungere ultimamente, ma... E quindi poi abbiamo fatto una seconda stagione l'anno scorso ridotta per dare degli update, un po' come una seconda edizione, perché delle cose erano cambiate, e il feedback che abbiamo raccolto anche lì è stato molto positivo, tante persone che ci hanno ringraziato, con la visualizzazione che citavo esiste anche come episodio di Liberazione Settapart, quindi se qualcuno se lo vuole sentire letto, non da me, non da Pietro, ma da Sandro Sivero, che ci batte 7 a 0, infatti dal punto di vista della presenza scenica, non a te, a me e a Pietro. Anche a me, anche a me, ma l'ho sentita, me la ricordo bene quella puntata, assolutamente. E quindi abbiamo iniziato proprio oggi, per caso, a lavorare a questa terza stagione che ha intenzione di affrontare l'amatore di New York dal punto di vista dei racconti delle persone, delle storie. Cioè, come vuol dire, l'amatore è fatto del percorso, è fatto dalle procedure di gara, ma in realtà è fatto di tante singole storie di runner e stiamo andando, siamo andati, stiamo andando un po' alla ricerca di storie un po' speciali, no? Nel senso di periodi difficili o gruppi assurdi o percorsi di crescita personale, insomma, anche problemi di salute, insomma, cerchiamo di raccontare, perché cercheremo di raccontare, questo sì che è uno spoiler, queste storie in questa terza stagione che abbiamo iniziato a registrare adesso, ma dobbiamo fare prestissimo perché io poi sparisco per mesi e quindi... Ragazzi, sentite da 024 perché è molto più costante, molto meglio, e soprattutto ringrazio io per Lorenzo i Patreon perché... No, lo dico sul serio, perché fare un podcast è molto, molto time consuming e vi assicuro a nome di Lorenzo che portare con costanza un servizio, le informazioni, le novità, la passione richiede veramente tanta voglia e a volte viene messa un po' a dura prova, almeno per me, per Lorenzo, no, perché è santo, e quindi chiunque sostenga un podcast, questo podcast di Lorenzo è veramente apprezzabile, li ringrazio a nome tuo e per le domande che hanno fatto. Grazie, grazie veramente. A sto punto andrei verso la chiusura, se c'è qualcosa, perché alla fine abbiamo parlato poco dei libri, se c'è qualcosa che è utile aggiungere, fallo assolutamente, se a me se chiacchierai di tutto, a volte le mi hanno dato quello. Va benissimo, sì, i libri sono disponibili su Amazon, in digitale o come copia cartacea, su tutti gli store digitali che potete immaginare, può essere per voi, può essere per un amico, può essere un regalo, ma soprattutto se vagamente interessa o New York o l'Amatole di New York, quello che cerco di fare io e col podcast anche, cerco di darvi le informazioni in modo che quando poi andate lì a correre l'Amatole di New York, tutta una serie di dubbi, paure e perplessità siano stati sorpassati, anche quelli più banali. E aggiungo questo e poi giuro ti mollo. Ma non va di che, ma possiamo andare avanti anche due ore? Ah, io posso andare avanti 90 giorni su questo argomento. No, una delle cose che ha aggiunto nella seconda edizione, ad esempio quella sì, basata sul Fib, che è un capitolo che ti spiega come arrivare in città dall'aeroporto, che è l'assoluto, lo dico, il capitolo più scocciante da scrivere della storia dell'umanità ed è stato un supplizio perché New York ha tre aeroporti e diversi modi diversi da ciascun aeroporto per arrivare in città. E quindi è tipo la crescita esponenziale. Appena incominci a provare a dare le informazioni, è in più JFK, che è il principale aeroporto di New York, lo stanno rifacendo. Quindi quest'anno la metà delle cose che ho scritto in JFK non si applicano. Quindi è veramente un supplizio. Però ecco, anche arrivare a New York e direi, oddio, come arrivo in albergo, magari se uno c'ha tre giorni e la maratona al centro del mirino, quindi l'idea è quella di fornire le informazioni per permettersi a chi legge il libro, chi se lo porta, di concentrarsi sulle cose importanti che è divertirsi. Questo diciamo sempre. Assolutamente, assolutamente. Allora ti faccio anche io una domanda extra a sto punto. Visto che su Stravo ho notato che invece un po' hai ripreso a correre. Hai in programma qualcosa per questo 2024, oltre magari alla maratona di New York? Allora, maratona di New York, sì, c'è una in programma. Ovviamente. Il senso che quest'anno dovrebbe essere tocco legno, come si dice negli Stati Uniti, dovrebbe essere l'undicesima, e io vorrei arrivare a 15, perché da 15 in poi si entra ogni anno di diritto. E quindi questo è l'obiettivo. Ho il programma di correre per un lungo viaggio che farò da maggio a settembre in tantissime parti del nord Europa, ed ho in programma per una volta di raccontarlo un po', perché io, forse lo sai, sui miei account social, non quello mio personale, ma sui account di Sivora Corsi e Fita, non racconto mai niente di me. Invece ho pensato che magari correndo in tanti posti belli quest'anno potrei cercare di raccontare un po' la mia preparazione per il New York, che è una peratta fazzine ridicola, non pensate a chissà cosa. Però sì, ho ripreso a correre dopo l'infortunio, tanta fatica, però insomma almeno la gamba per ora regge, e quindi li vediamo. Dai, bene, bene. Il dei libri comunque, dimenticavo, metto comunque il link anche nelle note dell'episodio, se vuoi aggiungere anche, dove la gente può trovarti banalmente, appunto parlavamo di social, siti o quant'altro, dimmelo e anche lì aggiungerò tutto. Personalmente se non potete fare a meno di me, mi trovate qua tutti i social, quasi dappertutto con Dell'Uva, e per fortuna avere un cognome atipico mi ha permesso quasi dappertutto di accaparrarmelo, oppure la corsa infinita su un po' dappertutto. Se volete scrivermi via email, il mail più semplice che mi viene in mente è hello at l'uva.it. Perfetto. Sì, sì, va bene. Sostenere questo podcast. Questo la metto come spot, faccio un reel e metto te che dici questa cosa, e lo sponsorizzo anche, magari. Non questo podcast, questo podcast qua. Troppo gentile, troppo gentile, veramente. Lorenzo, io ti ringrazio per la disponibilità, per i libri, per tutto quello che fai, perché comunque è sempre, a parte le battute, di super valore. Io, anche se non corro magari la Maratona di New York, i podcast li ho sentiti tutti, ad esempio, ho letto tutto, quindi è interessante a prescindere, secondo me, quello che viene fatto, veramente, complimenti. Non lo dico per piagerie, ma perché lo credo veramente. Io ti ringrazio sia il nome mio, sia il nome di Pietro, sia il nome delle persone che mi hanno aiutato per i libri, perché, lo sai, ci sono tanti capitoli scritti da altre persone, e qui, ah, se le persone che lo legge, lo trovo e lo sento anche in merito, di tante altre persone che sono, che mi hanno dato un'amante, scrivere proprio i libri. Benissimo, 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 davvero, andiamo a chiudere a sto punto, io ti ringrazio ancora per la disponibilità, do appuntamento a sto punto, a leggere i libri, a seguire anche il tuo, la terza stagione in arrivo. Tra due anni, speriamo che, appunto, spezzia torna, se si salva quest'anno, invece che andare in serie, ci rimaniamo in B, va bene, va bene, ci accontentiamo per quest'anno, tra due anni se ne riparla. Va bene, grazie mille a te, e a tutte persone che ci ascolta. Grazie a te, veramente, un saluto, ciao ciao. Ciao.